ormai ci conosciamo da tempo noi degli arredamenti fiorentini vogliamo mostrarvi come l'affidabilità delle nostre produzioni ci abbia condotto a realizzare arredamenti di prestigio in tutta italia citiamo tra i tanti il consiglio di stato il circolo ufficiali del ministero difesa il tar di venezia villa madama il ministero del tesoro e degli affari esteri e la corte costituzionale di roma gli arredamenti fiorentini vi attendono per mettere a vostra disposizione l'esperienza artigiana e il valore di una produzione dove niente è lasciato al caso a presto arredamenti fiorentini via baracca 132 a firenze arrivederci